Buongiorno a tutti, oggi vi mostrerò il pane con il mambo. Allora ho messo il cucchiaio per impastare tutta l'acqua e cominciamo a scaldare. Due minuti, 37 gradi. Io utilizzo il lievito secco, quindi prima aggiungo tutta la farina doppio zero e la farina di grano duro. Dopo aver aggiunto questi ingredienti mettiamo anche olio di semi, lievito di birra e quindi impastiamo il tutto 8 minuti a velocità 3. Vi faccio vedere come lavora la macchina, per me è molto valida. Dopo aver lavorato gli ingredienti mettiamo il sale e quindi formate un panetto e lo mettiamo in una ciotola oleata a pellicola e lasciate lievitare fino al proprio raddoppio. in funzione di lievitazione. Trascorso il tempo staccate dei pezzi, lavorate con le mani e formate delle palline. Trasferite in un panno infarinato, schiacciate un po' e lasciate lievitare. Trascorso il tempo di lievitazione create dei taglietti sulla superficie. Io ho scaldato la pietra refrattaria dentro il forno per circa 30 minuti. Ho messo tutti i panini sopra la pietra e li ho fatti cuocere a 250 gradi per circa 20 minuti. Questo è il risultato finale. Ottimo!